La Fai del Piemonte ha iniziato un nuovo cammino, il nuovo cammino parte da un'analisi del territorio per questo abbiamo commissionato un rapporto, quindi abbiamo analizzato tutti i dati sulle aziende piemontesi per comprenderne il potenziale, per comprendere il numero di dipendenti e per poter orientare i nostri investimenti per far sì che le iniziative che mettiamo in atto possano produrre dei risultati profitti per la Fai del Piemonte. Oggi abbiamo ragionato tra le altre cose anche del DEF, un argomento di cui si parla poco, dove ci sono differenze enormi tra il quadro economico del Paese, cioè la crescita reale, non quella dei numeri, e le previsioni di spesa. Stando al ribasso questa differenza supera i 90 miliardi di euro, quindi siamo molto preoccupati come organizzazione perché questa differenza sicuramente graverà sui soliti noti su chi lavora e su chi è in pensione. Abbiamo toccato anche un argomento di cui si parla poco e male, che è quello del salario minimo. Andare a toccare e a legiferare su un salario minimo significa molto semplicemente andare al ribasso rispetto ai salari che già oggi ci sono. Uno dei maggiori appuntamenti che avremo nei prossimi mesi sarà quello del rinnovo del contratto dell'industria alimentare. Il contratto dell'industria alimentare rappresenta circa 400 mila lavoratori a livello nazionale e in Piemonte è una fetta importante perché ha importanti gruppi alimentari. Inoltre in Piemonte siamo impegnati a rafforzare il patto associativo con i nostri iscritti, ma ancora di più a far crescere l'organizzazione perché le aziende presenti nel territorio piemontese, non solo industriali ma anche agricole, sono tante e hanno bisogno di rappresentanza della falcisla e della città.